Ultimo giorno da preside per Marcello Landi, dirigente scolastico del liceo artistico Nervi Severini di Ravenna, che da domani andrà in pensione. Nonostante la mobilitazione di studenti e famiglie che chiedevano al Ministero di fare un'eccezione e di posticipare il pensionamento dell'amato preside, per l'anno scolastico 2015-2016 la scuola finirà sotto la direzione di Patrizia Ravagli, attuale preside del liceo classico. Ma quali sono i ricordi più belli e rimpianti che si porterà dietro Landi a termine di questa esperienza nell'istituto Nervi Severini iniziata nel 2005? Gli impianti no, le vittorie non sono vittorie, sono condivisione di lavoro con degli ottimi insegnanti, che ci ha portato a quasi raddoppiare il numero degli iscritti negli ultimi 7-8 anni. Stamattina abbiamo istituito il Comitato Didattico Scientifico dell'Iceo Artistico, che è stato formato da tutta una serie di personalità di Ravenna, che dovranno aiutare a dare ancora maggiore incisività alla nostra scuola sul territorio, per avere un dialogo maggiore, bilancio è che continuiamo a fare qualcosa per la scuola, poi io andrò ovviamente in pensione, ci sarà una reggenza che governerà la scuola e però probabilmente continueremo a collaborare attraverso questo Comitato. L'ultimo che è rimasto è l'istituto d'arte e anche questo rischia di scomparire, perché il Ministero non riconosce più l'addizione di mosaico e anche le prove che si faranno, non saranno più prove di mosaico e nel tempo anche chi insegna mosaico non sarà più un insegnante di mosaico. Questa è una cosa gravissima perché cancelliamo il patrimonio di un secolo in giro di un ventennio. Qual è il ricordo più bello che le rimarrà di questa esperienza al liceo artistico a Ravenna? Da quando ho 11 anni che frequento e respiro l'aria del liceo artistico dell'istituto d'arte, quindi i ricordi si perdono nel tempo e quindi anche io non li ricordo tutti, come dire. Come preside c'è stato in particolare un evento che lo ha reso soddisfatto del lavoro svolto qui nel liceo? Gli eventi sono le mostre che riusciamo a fare, per esempio a Santa Maria delle Croci, che il Comune ci ha dato in gestione da un paio d'anni per riuscire a fare delle cose, ma soprattutto il rapporto con i ragazzi, la cosa più stimolante è sempre quella lì. Invece una cosa che avrebbe voluto fare in questi anni ma non è riuscito a portare avanti, a portare a termine? Beh, ce ne sono tantissime, non una, abbiamo moltissimi progetti, per esempio mi sarebbe piaciuto organizzare, per arrivare all'ultima, che il Comune avesse organizzato meglio l'Expo di Milano e che ci avesse coinvolto di più. Difatti noi siamo l'unica scuola in Italia che è presente all'Expo di Milano con un lavoro sul Decumano, quindi nel punto più visitato di tutta Expo, però ce lo siamo inventato noi con Otranto e con questo gemellaggio. Mentre l'organizzazione locale, diciamo così, ci ha ignorato e schivato, pensavamo che invece fosse da considerare un'eccellenza e questo qui è un po' di rammarico. Adesso che andrà in pensione ha un'idea di quello che farà, magari c'è l'idea di non entrare in politica, ma comunque dare un contributo alla vita politica di Ravenna? Ma noi lo diamo continuamente, noi facciamo politica culturale come scuola, quindi io è quello che so fare quello, non so fare altre cose, oltre che dipingere e fare mostre quando avevo più tempo e quando potevo, quindi potrò continuare intanto a riprendere in mano tutto il lavoro che ho lasciato. Poi il contributo, come dire, in modo organico alla città, penso di poterlo dare e di continuare a darlo. Non lo so, a meno che non mi costruisca, come ho già detto, una panchina mosaico sui viai della stazione, che stazioni lì tutto il giorno inerme, ma non credo di avere il carattere.